ciao ragazzi oggi voglio farvi vedere un esercizio per svegliare l'energia del corpo e anche quella della mente e per smuovere soprattutto i nostri muscoli le nostre tensioni a livello appunto della colonna vertebrale che spesso sono causa non solo di fastidiosi acciacchi dolori ma anche appunto di una cattiva postura che chiaramente va a incidere sulla nostra bellezza sul nostro benessere e anche su quello che comunichiamo per fare questo sostanzialmente vi consiglio di fare dei movimenti circolari ad onda per svegliare l'energia del corpo e far sì che appunto il corpo trovi naturalmente un allineamento corretto e dinamico come in questo modo sostanzialmente ci sediamo in questa posizione del loto con le gambe incrociate e da questa posizione facciamo come delle onde dei cerchi in un senso e nell'altro in questa maniera andremo in un senso poi torneremo indietro poi ci muoveremo in questo modo possiamo ripeterlo per dieci volte in un senso così e poi quando l'avremmo fatto ci fermeremo un attimo al centro faremo un respiro e ripeteremo tutto al lato opposto quindi nell'altro senso per altre dieci volte l'importante è che ogni volta che faccio questo movimento ho l'impressione di muovermi di ondeggiare come se fosse un'onda del mare di lasciarmi trasportare in questo modo inoltre per essere sicuri che il movimento sia fatto nel modo corretto l'importante è anche nel movimento mantenere bene le gambe al suolo per quanto possibile e sentire appunto gli ischi ben appoggiati al suolo se abbiamo problemi ad avere per mantenere questa posizione possiamo posizionare anche un cuscino dietro appunto nella zona diciamo degli ischi in modo da sederci più comodamente provate questo esercizio e avrete un enorme beneficio non solo per sciogliere tutte le tensioni ma anche per far fluire l'energia a livello fisico e mentale e anche questo questo esercizio farà sì che il vostro punto vita ne abbia beneficio perché si snellirà con questi movimenti provate e sapetemi dire grazie e alla prossima ciao